L'Aquila per un giorno capitale del perdono e della pace. Il 28 agosto sarà una data storica per il capoluogo di regione per il giubileo aquilano. Riconosciuta nel 2019 patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, la perdonanza celestiniana segna, con la visita del pontefice, il suo traguardo più importante nella storia recente. Dopo la sua istituzione decretata da Celestino V, Papa Francesco è di fatto il primo pontefice che dopo 728 anni apre la porta santa. Il Papa è molto determinato nel venire. Come avete visto ha fatto interventi chiari per spazzare via dal campo interpretazioni del tutto gratuite e quindi legittime, riproponendo il tema centrale di una visita pastorale segnata dall'incontro del successore di Pietro con questa chiesa, con questa città segnata da una storia alta e anche dolorosa. Prima tappa della visita nel capoluogo sarà in piazza Duomo dove farà visita in forma privata all'interno della cattedrale di San Massimo che porta ancora i segni del terremoto del 2009. Lì ci sarà l'abbraccio amorevole di Papa Francesco ai familiari delle vittime del sisma. L'ha firmato lui quel programma, quindi vuol dire che nel suo rendersi presente tra di noi la sua attenzione è sempre centrata su questo aspetto del rendersi prossimo. A bordo della Papa Mobile il Santo Padre si dirigerà alle 10 nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio dove celebrerà l'Omerilia e l'Angelus, cerimonia questa che culminerà nella storica apertura della Porta Santa il cui attraversamento concede l'indulgenza plenaria ai fedeli cristiani. L'Aquila, città del perdono, dall'Aquila può arrivare il messaggio per una pace importante nel mondo? Io ne sono sicuro, anche perché la pace non si costruirà se non si sarà capaci di rimuovere le diffidenze.